Vengo da un'azienda che sta subendo un profondo processo di rinnovamento, un'azienda che è stata a suo tempo anche con 800-900 dipendenti, un'azienda che lavorava in un settore con un alto contenuto tecnologico, un'azienda che lavorava con gli aeroplani, insomma aerei anche di grosse dimensioni, aerei che arrivavano da clienti da tutto il mondo. E' un'azienda che prevalentemente provvedeva a fare trasformazioni, manutenzioni e revisioni di questi aeroplani e dunque era un'azienda che ha dato un notevole contributo sul tessuto produttivo del territorio veneziano. Ebbene questo è successo fino a non più tardi due o tre anni fa, dopodiché l'azienda è stata in buona sostanza svuotata sul numero dei dipendenti, si è arrivati a 600 dipendenti ma anche meno, è un'azienda che in buona sostanza è fallita nel suo processo, nella sua missione produttiva e questo per negligenza e per miopia di un gruppo dirigente che in buona sostanza non ha saputo fare i conti con quelli che erano i processi che si avviavano già e si aveva un settore in quel periodo. Diciamo che le avvisaglie di crisi sono state sotto l'aspetto della redditività d'azienda, l'azienda cominciava a comunicarci che i conti erano in rosso nonostante noi avessimo un'azienda con gli hangar pieni di aeroplani. Avevamo molto lavoro, c'erano molti straordinari da fare, molti lavoratori trasfertisti, addirittura c'erano lavoratori in trasferta anche da altri paesi stranieri, arrivavano dall'Inghilterra, arrivavano dall'America, arrivavano anche dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per lavorare sui nostri prodotti ma l'azienda continuava a ripeterci che noi perdavamo, perdavamo per i motivi più disparati, loro giustificavano queste perdite con i prezzi che dovevamo concorrere con altri paesi stranieri che dovevano essere abbassati cosa che noi non abbiamo mai in buona sostanza condiviso, soprattutto quando l'azienda ci ha proposto delle ricette per risollevarci che non andavano nella direzione che noi ospicavamo infatti l'azienda adesso è stata divisa, smembrata, spacchettata in tre gruppi diversi con un notevole svuotamento sia sotto l'aspetto del numero dei dipendenti ma anche del contenuto stesso tecnologico perché adesso non facciamo più le cose che facevamo prima che era un'attività che dava anche notevole gratificazioni anche al lavoratore non dico sotto l'aspetto economico, quello no assolutamente perché noi siamo sempre nel comparto metalmeccanico ma ripeto attività che insomma il lavoratore faceva con una certa diligenza anche sotto l'aspetto artigianale, officine aeronavali non più tardi, 3-4 anni fa era leader mondiale nel campo delle trasformazioni aeronautiche da noi arrivavano aerei di grosse dimensioni, venivano trasformati da aerei civili quando finivano la loro vita naturale sul civile per il trasporto passeggeri venivano trasformati in aerei merci, noi eravamo ripeto leader mondiali, noi concorravamo con società di Singapore, con società israeliane, con società anche europee ma noi ripeto eravamo leader mondiale, vuoi per i prezzi, vuoi per la qualità soprattutto del lavoro che riuscivamo a produrre, insomma tutti portavano i velevoli da noi ad un certo punto questo non è più successo e le nostre quote sono state assorbite da queste società la nostra è una crisi che passa innanzitutto come ho detto prima anche per scelte miope del gruppo dirigente ma soprattutto per l'inadeguatezza del gruppo dirigente ripeto le ricette che tendono a mettere in campo non sono quelle che possono farci uscire dalla crisi oggi giorno noi assistiamo un attacco ai diritti dei lavoratori principalmente partendo soprattutto anche dalla negazione del contratto nazionale che è quello che vorrebbero imporci, ecco noi siamo anche consapevoli di questo aspetto nel senso che l'abbiamo passato e vissuto in prima persona insomma non sono i diritti, non sono questo perimetro di tutele che abbiamo per il tramite del contratto nazionale insomma che è negando tutto questo che ci permetterebbe di uscire da questa crisi perché ripeto noi abbiamo passato in prima persona il vero problema nel nostro paese come noi abbiamo avuto modo di constatare è un gruppo dirigente che si approfitta della situazione che si viene a creare diciamo in maniera banale insomma ingrassando le proprie tasche e scaricando il tutto sulle spalle dei lavoratori quello che si determina nel giorno penso che dal nostro punto di vista insomma sia da imputare principalmente anche al fatto che non c'è una politica industriale degna di questo nome in questo paese che possa dare un indirizzo, che possa dare una guida, che possa dare anche un'agenda diversa in questo paese insomma diciamo che le esperienze anche degli ultimi anni ci dicono che il non avere una politica industriale degna di questo nome porta singoli settori nella nostra società insomma vuoi industriale, vuoi chimico, vuoi metalmeccanico, vuoi edile insomma a prendere delle decisioni che sono insomma come vediamo in questi giorni, vedi il caso Mirafiori insomma che sono sintomatiche anche del malessere del nostro paese insomma a prendere di un'an myxito insomma insomma ris Spezia